mi chiamo giovanni sartore sono titolare della crosa con mia sorella francesca mio padre nel 62 umberto piero acquistato l'azienda che era un negozio di ricambi auto oggi l'azienda crosa è una ditta commerciale e questo ci rende atipici perché non siamo solo un'azienda commerciale al nostro interno abbiamo anche un'unità produttiva lavoriamo materie plastiche solo per il settore meccanico e per il 90 per cento siamo presenti nel settore food beverage e sul finire del 2018 ho chiuso una ordine d'acquisto con l'abs per due pantografi una rover a tre assi e una materia cinque assi devo dire che l'acquisto di queste macchine sicuramente ha migliorato la nostra qualità di lavorazione ha migliorato la nostra capacità di rispondere alle domande dei clienti è elevato l'asticella della difficoltà dei componenti che stiamo facendo ciao sono lorenzo della crosa sono responsabile del reparto di produzione possiamo garantire al cliente quattro fasi di lavorazione la fornitura di materiale grezzo la fornitura di materiale tagliato e la fornitura di materiale o lavorato da lastra e abbiamo un macchinario della bs la rover a che ci permette di avere nesting spinti e poi abbiamo quello che il fiore all'occhiello la materia sempre della bs che ci garantisce di entrare nel mondo della lavorazione dei materiali avanzati soprattutto per uso campo alimentare materiali che possono essere lavorati da lastra e in ripresa soprattutto in questo campo ci spingiamo in lavorazioni di precisione e ci spingiamo anche nel campo di adesatura e maschiatura c'è da dire che da quando usiamo i macchinari bs riusciamo a garantire al cliente una flessibilità maggiore una qualità superiore e le risposte che abbiamo avuto sono state risposte veloci precise e ci hanno permesso di risolvere il problema veramente in qualche manciata di ore vedo in bs un partner per il prossimo futuro quindi le sfide saranno ancora più alte e credo che insieme potremmo coglierle tranquillamente e serenamente